Ciao a tutti, stasera vado a casa con la RAV4 4x2, cioè la trazione anteriore. Eccola qua, un bel colore viola melanzana, che tutto sommato non mi dispiace per niente. E' a bordo. Pronti a partire. Il nido, la butto qua, cintura, naturalmente è una liquida, quindi schiaccio il tasto power e non dovrebbe succedere niente, fantastico. Tutto acceso e V ready, possiamo andare in elettrico. Mi avvio verso casa, non sarà tanta strada, io dalla redazione di quattro ruote a casa faccio circa 10-11 km. Parliamo di un'auto in grado di fare circa 20 km con un litro in città. Per una SUV di queste dimensioni è un risultato davvero apprezzato. Quello che c'è da notare nella strumentazione è il power meter, cioè l'indicatore dell'energia che si trova al posto del contagiri. Con una partenza soft, morbida, come ho fatto in questo momento, la lancetta rimane nella zona eco. Vuol dire che ci stiamo comportando in modo virtuoso dal punto di vista del consumo e dell'ecologia. Ecco, sono quasi arrivato. Come primo assaggio confermo che è un'auto molto molto comoda, facile da guidare, gradevole, ha un'ottima posizione alta che consente di dominare il traffico, vedere lontano davanti a sé. Mi è piaciuta.